Il momento per ricordare, ma in realtà non ci siamo mai scordati, sempre viva questa tragedia nei nostri cuori, ancora a un mese non riusciamo ancora a renderci conto profondamente di quello che è successo, quindi questo credo che sia la cosa più importante che possiamo fare a un mese, quello di dedicare un momento tutti insieme al loro ricordo, un ricordo fervido, vivo e ripeto che ci ha toccato profondamente. L'olivo nella tradizione giudaico-cristiana è il simbolo dell'eternità e la loro memoria rimarrà in eterno in questi olivi e in tutti noi. Sono vicino e abbraccio i familiari, grazie grazie di averci regalato delle persone stupende. Con questa tragedia noi abbiamo perso quattro persone meravigliose e oggi vogliamo ricordarle, ma non solo per oggi, noi vorremmo ricordarle sempre perché hanno fatto un'attività bellissima, hanno dato tutto quello che potevano dare, compresa la loro vita, quindi noi siamo debitori a vita nei confronti di queste persone meravigliose. Vorrei ringraziare tutto l'equipaggio che purtroppo non c'è più, Soccolci, Inza e Stefano. Ringraziamovi per il vostro trato, per l'amore e dedizione con cui lavoravate e per questo vi chiedo un applauso. Il nostro lavoro mette sempre a rischio la nostra incolumità, nonostante le attenzioni e la nostra professionalità. Purtroppo in questo tragico evento ha perso la vita anche il paziente Sir Filippi, a cui ci stringiamo nel dolore dei familiari. Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione delle autorità più presenti per far sì che possano lavorare per garantirci la massima sicurezza. Per sempre nel cuore, 14G08 più dei servizi.